Simone Anzani, diciamo così, il modo migliore per rialzare la testa all'ultima giornata del girone d'andata, una prestazione che è arrivata sembra prima dal cuore che dal braccio? Noi arrivavamo da un periodo non bellissimo dove abbiamo preso delle belle batoste, dove con un po' di sacrificio, se due settimane sono stati in ritiro, abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, giocare col cuore, perché dobbiamo tirare fuori un po' di cose, dobbiamo tirare fuori un po' di rabbia che abbiamo dentro da un po' di settimane, quindi oggi ce l'abbiamo fatta, siamo stati bravi, abbiamo messo Padova sempre sotto pressione dall'inizio, non sono mai riusciti a venirne fuori dalla nostra battuta e dal nostro muro, quindi siamo stati bravi, siamo contenti, ci si è liberato un nodo dello stomaco e adesso dobbiamo continuare così. Senti, per quanto riguarda Padova, anche Padova arriva da un periodo difficile, secondo te cosa bisogna fare in questi momenti nello sfogliatoio per cercare di rialzarsi? Noi, se ti dico le riunioni che abbiamo fatto, non ti immagini neanche, però io penso che un calo fisiologico ogni squadra ce l'ha, magari non come il nostro o come quello di Padova, però ce l'hanno tutti, noi ne siamo venuti fuori col lavoro perché è due settimane che veramente stiamo lavorando duro e poi comunque se ci sono comunque dei problemi a livello di gioco, io penso che la comunicazione sia la base di tutto, quindi con la comunicazione si può venire fuori da un periodo brutto. Grazie mille, bocca al lupo. Niente, grazie.